Non so se la Juve si è più forte dell'anno scorso, spesso ho dubbi, ma è certamente cambiata l'aria che tira. La squadra si trova meglio compirlo, questo è evidente. Forse proprio perché è poco invadente e quel poco che dice arriva da un grande passato. I giocatori amano riconoscere se stessi negli altri, tenere il fuoco della loro scienza, acceso quasi soltanto nella loro esclusiva capanna. È rimasta una piccola sufficienza di fondo nella Juve, quella è figlia di un'abitudine a vincere che lentamente diventa un limite, ma c'è una partecipazione diversa nei tratti delle partite. Perfino Ronaldo sembra diventato più sentimentale, adesso vive alla squadra, non pensa solo a se stesso. Ha accettato di spostarsi al centro quando gioca a chiesa, anche se è chiaro che non gli piace lasciare il territorio della sua vita. Ma lo fa, accetta perché capisce l'esigenza dell'allenatore. Un buon senso comune che in passato non è mai stato altrettanto automatico. È come se tutta la squadra si sentisse un po' allenatrice di se stessa e Pirlo fosse un allenatore giocatore. C'è il piacere di vedere le cose dallo stesso punto di vista, se volete anche quello di essere casta, ma funziona.